Una figura importante che ha vissuto in un periodo storico di grande rilievo e che ha segnato la storia dell'Europa, del mondo, possiamo dire. Io l'ho conosciuto di fama, Beniamino Ubaldi, anche se poi l'ho conosciuto di persona perché lui è morto nel 65, io ero in seminario regionale e i vescovi venivano a visitare i seminaristi, quindi questo vescovo di Gubbio, io me lo ricordo che veniva a visitare i seminaristi di Gubbio, tra l'altro Don Luigi Lupini e Don Fausto Panfili, i miei compagni, e quindi la persona l'ho conosciuta, l'ho vista, ma certamente non ho potuto apprezzare e conoscere di persona solo come figura di vescovo. In questi dieci anni di suo episcopato, quante volte è riaccheggiato il nome di Monsignor Beniamino Ubaldi, al di là che siamo in un complesso e in una struttura che porta il suo nome che a lui è intitolata, in particolare con gli impianti sportivi, un altro segmento, quello del lavorare per i giovani che gli era tanto caro. È stata la sua passione, una delle sue passioni, perché lui ha spaziato su tutto il fronte della vita dell'uomo, giovani, anziani, famiglie. Ma Beniamino Ubaldi, a parte i titoli, le vie, a Gubbio sì, è nella memoria di tutti e anche nel cuore di tutti. Poi c'è questa vicenda dei 40 martiri che ogni anno ci raccoglie nel mausoleo e ogni anno noi rileggiamo la preghiera che ha scritto lui, Beniamino Ubaldi, proprio in quel periodo tristissimo della vita della città. Un evento, quello che ha segnato la storia di Gubbio, ma anche del Vescovo, perché ha sofferto tantissimo, non riuscendo a salvare quelle persone che stavano lì, prigioniere prima e poi uccise dopo. E lui ha fatto di tutto, ha offerto anche la vita, ma non è stato possibile salvarli.